Sì, mi chiedo, dove trova il coraggio di convivere con tutto il mare che ogni giorno vede da qui? Qualche volta prego il Signore e mi domando se esiste davvero. Si domanda se esiste? Sì, e mi do sempre la stessa risposta. Considerato in quanti lo pregano e credono in Lui, forse esiste davvero. E' sua fazzoletta.